Siamo una banca differente, è uno slogan che si sente spesso, ma noi vogliamo dimostrare nel concreto chi siamo e lo facciamo anche attraverso il bilancio sociale, un documento che trasmette i nostri valori e il nostro contributo alla crescita culturale ed economica del territorio. 1.084.000 euro è la cifra che nel 2019 è stata trasferita dalla Cassa Rurale al territorio, più di 400.000 euro a favore delle associazioni, 600.000 euro a vantaggio dei soci, 50.000 beneficio del territorio. Quasi 400 iniziative organizzate dalle varie associazioni che abbiamo contribuito a finanziare. Numerose sono state anche le collaborazioni con le scuole, sia per trasmettere ed aumentare l'educazione e la cultura finanziaria, che per trasmettere in modo attivo e coinvolgente i nostri principi di credito cooperativo. Agli oltre 8.700 soci dedichiamo prodotti, servizi ed iniziative apposite, premi allo studio, consulenza fiscale e legale, corsi di lingua straniera, interessanti sconti sia su prodotti e servizi bancari che non bancari. Per qualsiasi informazione sugli agevolazioni soci, fate pure riferimento alle nostre filiali, dove trovate anche questo comodo puscolo che sintetizza tutti i vantaggi per i soci. La Cassa Rurale contribuisce inoltre alla crescita culturale di tutta la comunità attraverso numerosi eventi formativi. Certo, siamo una banca e come tale perseguiamo efficienza e solidità, a beneficio di tutti i clienti. Siamo una banca incline al futuro, ma al tempo stesso ancorata alle nostre origini. Una banca vicina al territorio, vicina alla comunità.